Sì, sono molto dispiaciuto e molto ramarecato per questo pareggio perché i ragazzi meritavano sicuramente la vittoria per quello che hanno fatto vedere in campo. Veramente abbiamo, secondo me, fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto sempre il dominio del gioco e sono stati padroni del campo. Abbiamo provato e cercato di giocare nella metacampo offensiva e ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. E' un peccato, un peccato per due disattenzioni che abbiamo concesso alla squadra avversaria e ci ha punito è stato molto cinico al bruciaporto e ci ha punito con quelle due piccole disattenzioni che abbiamo concesso. Insomma, ci sono dispiaciuto perché i ragazzi sicuramente meritavano la vittoria, abbiamo creato anche tanto e ci sono state tante occasioni da gol per noi. Il loro portiere è stato molto bravo oggi, si è superato e pensavo che abbia fatto la migliore partita della stagione. Quindi c'è poco da dire ai ragazzi, non ho niente da rimproverare. E' un pareggio sicuramente non meritato. Meritavamo i tre punti oggi e sono sicuro che però adesso recuperiamo bene qualche piccolo acciacco di qualche giocatore infortunato. Abbiamo la sosta, quindi abbiamo il tempo per recuperare bene tutti i giocatori e sono convinto che poi da domenica prossima contro la Casatese riproviamo a conquistare quei punti importantissimi che ci porteranno al compimento dell'obiettivo, al raggiungimento dell'obiettivo, qua se ne sono sicuro, perché la squadra ormai ha un'identità e i ragazzi se lo meritano come se lo meritavano oggi. Quindi sono tranquillo, sereno che i punti arriveranno il prima possibile. Grazie a tutti. Grazie.